Salerno Cup 2022, oggi 6 settembre, domani 7 settembre, il primo round sia del singolo che del doppio di tennis. Dalle ore 12 di oggi, 6 settembre, si è ritornato a giocare sui campi del tennis club La Carnale. L'ultima partita in programma per oggi è alle ore 20.45 sul campo centrale e vedrà Lorenzo Bocchi contro Jacopo Bilardo. Il torneo che si sta svolgendo sui campi del circolo tennis club La Carnale ha ricevuto il patrocinio della regione Campania, comune di Salerno e provincia di Salerno.